Sembra carino. Vuoi provarlo? Ok. Sì! Sei pronta? Dove andiamo? Wow, wow, wow! Riley, vieni! No, puoi farcela, dai! Che diavolo, è bellissimo! Oh, cavolo! Andiamo, salta su! Stai qui con me! Ok, aspetta! No, 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 no! Oh, cavolo! Sono appena salita! Dai! Vabbè, mi è piaciuto un sacco. Oh, ho trovato qualcos'altro. Quello cos'è? Cosa dicono due casseforti che si incontrano? Che cos'è? Che combinazione! Cazzo, hai trovato un altro libro di barzellette! Cosa aspetta la povera pianta zitella? Eh, un posto che la corteggia! Tieni, te lo regalo. Sai, mi sa che mi sei di nuovo simpatica. Per dire... Non fa ti conosco. Per dire... D'accordo. Sei pronta? Pronta. Senti questa. Occhio per occhio... Quarantocchio. Oh, bella! Bella, non male.